vedete con a motta san giovanni si può fare pure la pet therapy ci sono pure cani cani gatti all'accarezziamo orsa ciao orsicettola bella orsa bella guarda che bella orsa che bella facciamo la pet therapy che non è per forza per chi è soggetto psichiatrico diversamente abili ma pure per i sani vero bella 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 che bella orsicetta muzzica sempre muzzica sempre faccia muzzicona verso il cimitero scusate ora vi faccio vedere ora vi faccio vedere i gattini ah guarda che cenerina si è la pet therapy questa è la proprietà che bella della cita della mia cita della mia cita che bella che bella ma poi si fa l'aria aperta la pet therapy lo dentro ha chiuso allora sono le allora sono le 15 e 00 le 15 le 15 del 17 del 18 gennaio 2023 e